Stefano Allasia, perché è importante questo trattato approvato alla Camera dei Diputati? È importante in questa giornata storica perché viene sancito la fine della discussione del movimento Notav, perché all'interno del trattato viene sancito chi fa cosa all'interno di tutta l'opera, dal tunnel di base a tutta l'infrastruttura, soprattutto nel contesto riferito alla Torino-Lione. L'opera fondamentalmente porterà beneficio a tutto il territorio torinese e piemontese, ma non solo perché all'interno dei cantieri già oggi collaborano decine di aziende italiane e locali valsusine, perciò troviamo assolutamente un beneficio nell'immediato e poi successivamente, quando partiranno effettivamente i grandi lavori internazionali, il beneficio si estenderà. Sicuramente in una vallata con economia molto fragile e con enormi difficoltà rispetto a tutto il resto del Paese. Abbiamo sentore che ci saranno ulteriori disagi nella popolazione, ma questo l'abbiamo superato nelle discussioni parlamentari in queste giornate. Anche chi si è contrapposto enormemente, oramai si deve rendere conto che non ci sono più discussioni ulteriori da fare. Tutte le paure che sono state sono state oramai calmerate e placate con l'evidenza dei fatti e la bontà del progetto. Sicuramente è un'opera che si vedrà nel lungo periodo, ma fra vent'anni potremo dire, e ai nostri figli potremo lasciare soprattutto un'opera fondamentalmente positiva per tutto il territorio e per il rilancio dell'economia, cosa che in Italia e in Piemonte ha necessità enorme perché, come i dati definiscono, il Piemonte e il Torinese sono territori con un'enorme crisi industriale e il maggior numero di casse integrati dell'Italia.